TrisiLab nasce dalla volontà di voler trasferire tra gli studenti in primis, oltre che tra manager imprenditori e istituzioni, la valenza della competenza cross-culturale e soprattutto la possibilità di poter misurare questa competenza con l'intelligenza culturale. Nasce da un'idea di più di otto anni fa, che è stata in qualche modo sperimentata osservando quello che veniva fatto negli Stati Uniti e riportata poi da noi all'Università di Salerno. Salerno coinvolge nostri studenti ed esperti, quindi siamo in più di 12, lavoriamo come un'organizzazione virtuale, quindi non abbiamo bisogno di uno spazio fisico, perché lavoriamo attraverso connessioni basate sulla realizzazione di progetti a seconda di quello che ci viene richiesto e in aula e dal contesto di riferimento, quindi imprenditori, manager e istituzioni. Grazie per la visione!